ciao oggi ti presento un film di arti marziali del 72 con jimmy wang yu intitolato tai yang il terrore della cina jimmy wang yu ha ricordato soprattutto anche per il film cult kung fu del 71 dal titolo con una mano ti rompo e con due piedi ti spezzo mi ricordo ancora quando ero ragazzino c'erano veramente delle scene inverosimili e comunque qua jimmy wang yu interpreta tai yang che si reca in giappone per vendicarsi da dei malviventi che gli hanno ucciso la famiglia conosce una donna la in giappone che cerca di rubargli il portafoglio poi lui scopre che il capo di essa è uno dei malviventi quindi poi diventano amici e quindi lui si vendica e niente come al solito appunto vi metto sotto il link per vedere il film e buona visione